Grazie a tutti i nostri prodotti e per collaborare con loro abbiamo deciso di adottare la tecnologia realizzata per lavorare in tempo reale, in remoto. Ascoltiamo Giorgio. Sono Giorgio Simeone, responsabile per il controllo di qualità e qualità di prodotto. Oggi vi mostro un nuovo modo per comunicare che abbiamo lavorato per supportare i nostri prodotti all'interno del mondo. Sto a parlare di Hololens, che è un Google innovativo con i camera, i telefono e i sistemi operativi operativi. Quando si tratta di procedura di qualità e la verificazione di test, avere una mano libera mentre comunicando è un grande beneficio. Quindi abbiamo integrato questo strumento nella nostra corporazione net, e siamo capiti ai nostri prodotti utilizzando l'applicazione Microsoft Teams. Il buon risultato è stato evidenzionato dal primo rischio. Questa settimana, l'intuitiva funzionalità e l'efficienza sono il punto principale dei strumenti. Siamo capiti a share file in un'augmentata realtà, pointe al obiettivo in real-time, mentre esplendendo le procedure step e le datasheette tecniche. Basicamente, siamo all'interno del prodotto, con solo un clic. Dopo l'inizio dell'emergenza pandemica, con la Covid-19, abbiamo intensificato usando questo strumento, offrono un supporto rapido quando il viaggio era impossibile e i servizi sbagliati. Il servizio dei servizi ripagano i nostri committimenti e abbiamo stato chiesto per un'assistenza remota. Request ha le opzioni preferite. Grazie! Grazie! Grazie a tutti